Da anni ormai è in stato di abbandono l'ex bocciodromo di via Turati, nel quartiere Balate Pinzelli. Una struttura di proprietà della provincia, un tempo meta di tanti appassionati di bocce, sede di importanti manifestazioni anche a livello regionale. Un edificio che giorno dopo giorno va deteriorandosi, così come mostrano le immagini girate dal nostro operatore. Il tetto del fabbricato rischia di crollare a causa delle continue infiltrazioni d'acqua e la parte esterna è invasa da erbacce, che la fanno da padrona. La provincia a tempo addietro pubblicò un bando per la gestione della struttura, gara andata a deserta a quanto sembrerebbe per l'eccessivo costo di gestione, che è così rimasta abbandonata. Una questione più volte sollevata dal comitato di quartiere Balate Pinzelli, che ha richiesto il cambio di destinazione d'uso dell'edificio per restituirlo alla collettività e ai residenti del quartiere. E' proprio in questi giorni il comitato che ha posto il problema del bocciodromo all'amministrazione comunale nel corso delle due giunte itineranti, svoltesi alla Scuola Don Milani e alla Chiesa San Marco, ponendolo tra le priorità da affrontare, è tornato all'attacco chiedendo la convocazione di un tavolo tecnico con tutti i comitati cittadini per affrontare il tema inerente alla gestione delle aree verdi e delle strutture presenti in esse. L'intento è quello di sensibilizzare l'amministrazione comunale nelle procedure riguardanti l'affidamento e, se è il caso, anche il cambio di destinazione d'uso della struttura, che a seguito dell'abolizione della provincia è passata alla competenza del Libero Consorzio dei Comuni.